di utilizzare i terreni e di farli vivere le case le potete pure abbandonare però le case le potete mettere sul impianto solare fotovoltaico quindi quello che volete sui tetti va messo e poi va messo nelle zone inquinate perché lì il terreno non si lo vive ma non usate i terreni fertili per farle mettere impianti fotovoltaici non è questione di politica è questione proprio che al massimo durano vent'anni poi non crescerà più nulla è la stessa cosa per l'impianto eolico voi immaginate l'impianto eolico con campi magnetici eccezionali a mare come volete che vengono i tonni per esempio che hanno il rituale e conoscono la via sempre se tutti gli stontoni detta l'inglese con un campo oietico così forte e non solo ma l'impianto eolico produce un effetto particolare che è la natura vieta alla natura che è costituita dagli insetti dalle api di fare l'impollinazione che è la vita dei boschi e del re e quindi questo è una cosa da tenere conto anche gli pianti eolici devono essere messi in zone industriali in zone con non c'è bisogno di coltivare per poter e quindi anzi in zone industriali forniscono una corretta oppure possono essere messi senza farli viaggiare molto e con una pala quindi fare adesso scusate se faccio questi accostamenti di kibbutz che un gruppo di quattro proprietari di cinque etni ciascuno coltiva una cosa che serve l'energia con una pala che è a 10 metri di distanza chi non produce la corrente che possa lenire o uccidere le piante e poi avete questo fantastico sistema archeologico che avete e voi non potete abbandonarlo io non so se qualcuno di voi ha visto la cerimonia o mi ha visto dopo dell'assegnazione della laurea di miscausi mi hanno intervistato sul Rai 3 e mi hanno detto noi ci abbiamo in Sardegna questo sì che è politica non politica di resta di sinistra perché un uraghe non sapeva di diventare una cosa del genere ci sono ben 14.000 siti e oggi posso dire quasi 15.000 siti prestolici e protostolici senza tener conto di quelli punici, romani, medievali ci sono un migliaio di chiese romaniche oggi sarà il 2001 perché ho visto la nostra bellissima San Giorgio e anche la chiesa che non è romanica però è ugualmente bella è anche piena di interesse anche perché tutto attorno e anche nelle pareti ci sono pezzi di norma che richiama una bella cosa del più antico quindi c'è tutto un territorio attorno che è ricchissimo e merita di essere... certo ci vogliono soldi ci vogliono soldi ma mica tanto perché poi se voi utilizzate... non voglio fare... io non ho nessun interesse perché ormai la mia vita l'ho fatta, non voglio fare professione per fare sogni l'ho mai fatta, non ho la mia casa, la mia macchinina, non ho viglia al mare però ammetto che la professione si debba fare, anche far crescere il PIL del paese e della comunità le cose che nessuno ci può portare via in Sardegna sono proprio i beni culturali però devono essere utilizzati per poter riscavare tutto evidentemente un convegno fatto su Sardegna UNESCO parlare dei nuraghi da mettere... e hanno detto i nuraghi possono produrre un miliardo all'anno beh, forse anche di più però per poterlo fare ci vogliono una trentina di miliardi allora uno può investire 30 miliardi? certamente vedere questi 30 miliardi può essere un'idea secondo me io con i beni culturali, come ho detto alla fine nella mia intervista, nella mia produzione non solo ci possiamo vivere, al contrario di quello che aveva detto il ministro ma ci potremmo vivere anche mangiando la rossa nel senso che è un turismo che vale la pena fare perché non ce n'ha nessuno un tesoro del genere e quindi se noi abbiamo un tesoro ma perché non lo dobbiamo utilizzare? e poi è un tesoro che vale tutto l'anno è un tesoro che è continuo cioè se uno alimenta una certa... adesso per poterli sfruttare bisogna mettere un centro di servizi per fare un ESCO eccetera ma lei che roba bisogna fare però io faccio parte dei valutatori di ESCO però non sono stato interpellato lo posso dire una cosa fondamentale che sia fluibile il sito e quanti nurari sono fluibili? oggi di quelli in Sardegna su 14.000 siti ci sono solamente sette fluibili la speranza non solo non solo ma ci sono tutti per esempio gli handicappati e le persone disabili diciamo o diversamente abili c'è qualcuno che ha pensato che si dovrebbe pensare anche a loro oggi noi stiamo vivendo una rivoluzione che nessuno si accorge che esiste è proprio una rivoluzione a me la laurea di riscausa era dato il 14 di luglio che era il giorno della presa della Bastiglia i mille erano stati inquiettidati e io l'ho fatto nella sala della sala inquisizione avevano messo l'ultima sentenza la sala inquisizione ci ha contato il credito e ho detto questo cioè la rivoluzione gli effetti della rivoluzione francese è finita da molto ma oggi c'è una rivoluzione che è ben più potente che è una rivoluzione digitale oggi è vero che noi scusate da parte di alcuni giovani che sono presentati ma oggi la rivoluzione digitale è bene o male è quella che ci sta prendendo tutti i giovani soprattutto i giovani sono il futuro e quindi l'invito è è guardarlo con meno meno trasporto dalla parte ma anche meno con più attenzione perché può provare parecchie cose per esempio i beni digitali noi oggi con i sistemi che io ho per esempio utilizzato a Monteprano io li posso far vedere addirittura è una realtà diversa è una realtà non tattile cioè io non li posso toccare ma è una realtà ben più potente perché entra anche dove tu non puoi entrare e scavare e io lo posso trasmettere tutte queste nuvole di punti che sono laser scanner per esempio le chiese che possono essere raccontate anche a distanza la cosa bellissima è che tu ci puoi entrare dentro non so se la volta scorsa io abbia parlato del San Salvatore di Simis ecco lì adesso ho fatto un programma anche a Piscali e San Salvatore di Simis è una cosa straordinaria uno dall'aereo io riesco a vedere il villaggio dove trovo tutti i resti romani tutte le strade e tutto quello che c'è posso buttarmi dall'aereo come oppure un uccello che va verso il basso perché ha visto un verb poi a un certo punto gli sparisce gli sparisce il terreno ed entra dentro dove sono state fatte dove c'è la nuvola di punti del Gioradar e io attraverso il Gioradar e capisco che cosa è poi entro dentro il sistema scanner laser cioè io posso scannerizzare e vedere anche se c'è una gocciolina d'acqua vicino al condizionatore per dire che posso vedere tutto l'ambiente per esempio il San Salvatore ma non solo entro dentro l'ambiente e posso vedere i muri l'ipogero posso vedere l'ipogero e su cui pareti ci sono i disegni per esempio i disegni anche del retallo anche se è un po' più difficile da fare perché è una una pittura non è un carboncino e si può anche andare a vedere dunque l'ipogero si vede quasi più niente però io posso vedere attraverso l'infrarosso mi compare mi comparino dei disegni bellissimi l'ultimo non so se avessi parlato è uno della religione indù io l'altro giorno su facebook ho proposto così come ho proposto vent'anni fa che credevo che potesse succedere per davvero perché nell'ipogero di San Salvatore di Sines e credo da un po' dovunque si trova un segno di un altare cristiano sopra l'altare cristiano c'è una scritta araba che inneggia da là e che dice che il paradiso esiste realmente e l'inferno esiste realmente è che Mohammed è il profeta di Allah sopra l'altare cristiano non c'è nessuna parola contro la religione cristiana e chiaramente è venuto adotto poi dall'altra parte c'è una scritta che mi sembrava non è molto chiaro però sembra Shalom quindi in e poi in aramaico un'altra scritta e guardando ancora ho scoperto Ganesh Ganesh è il figlio della Trimurti il figlio di Shiva che è uno della Trimurti è induista e a fianco la Parvati la moglie di Shiva che è madre di Ganesh dentro San Salvatore l'unico posto al mondo fuori dall'India dove dove ci sono dei resti induri a San Salvatore di Sinesh ma chissà come comunque chissà quante cose abbiamo da scoprire da tutta questa bellezza che mi circonda di cui vi posso consigliare io proporrei una bella analisi oltre quella dell'acqua dei siti ancheologici fantastici che avete se volete raccontati in maniera non di scavo ma scavando solamente le parti interessanti per esempio si potrebbe costruire una specie di planetarium in cui proiettare non le cose che uno fa per esempio che uno vede o le stelle ma tutto il racconto di questo nuvole di punti che abbiamo costruito è una visione un po' avvenilistica ma si può realizzare domani la prossima settimana andremo andrò però guarderò solo i miei ragazzi nella mia squadra riusciranno a fare nella chiesa di San Giorgio a Suelli cercheranno la tomba di San Giorgio che non si è trovato perché c'è un San Giorgio che non è il vostro San Giorgio c'è un vestito di stampacce e quindi l'augurio è che poi ci sono anche le case capitanese un peccato di siano così perché si prova a ripescarle con qualche io le comprerò se per l'inizio a vivere oppure per esempio i sardi che sono all'estero perché non rientrano e c'è un altro problema i giovani devono fare i figli perché questo è il problema e come rimantengono probabilmente come rimantengono si però fino ad oggi c'è sempre stato quello come abbiamo superato ci sono ci sono è un circolo chiuso lo so però è chiuso io non avrei chiedo scusa scusate se mi interessa sono andato direi un applauso grazie volevo fare allacciandomi a quanto ha detto lei alcune piccole considerazioni portandole alla nostra realtà è stato detto che il nostro è un territorio pieno d'acqua circondato da tanti fiumi intanto era così probabilmente nei tempi antichi ma non è più adesso i fiumi non sono fiumi torto uno che si può chiamare fiumi gli altri sono dei torrenti che hanno l'acqua soltanto nel periodo invernale e poi sono asciuti e poi sono asciuti e poi a causa della siccità anche l'acqua che noi peschiamo dai pulsi artesiani per la nostra agricoltura adesso la troviamo ad una profondità 100 metri 150 metri e a causa della siccità degli ultimi pericoli è un'acqua più non buona per la nostra agricoltura in quanto ha un tasso di salinità molto forte che non consente la produzione di ultimi e da dove la prevede l'acqua? ecco e qui si pone il problema perché la stiamo a continuare purtroppo a fingere da questi fuzzi anche se non è ottima perché non abbiamo l'irrigazione e quindi si pone il problema che per poter continuare a cultivare i fiumi composti che abbiamo molti di terreni abbiamo bisogno di delle irrigazioni perché sennò così non si fa andare sia perché non è buona l'acqua sia per i costi troppo elevati che costa portare l'acqua in superficie da 100 150 metri con i costi che l'energia etica adesso quindi questa è già una situazione che probabilmente era prima quando l'acqua bastava scavare ad un pulso due metri che avevano l'acqua per il regalo adesso non c'è più questa situazione per quanto riguarda invece tutta la zona archeologica ottima che abbiamo intanto abbiamo un problema la nostra zona archeologica le più importanti sono sempre a confine con Anticum sull'orario di analisi è a confine con Padre Mosa Montella è a confine con Silvio e quando queste realtà non sono non appartengono ad un unico comune c'è sempre il problema di mettere d'accordo le due comunità su che cosa si vuole fare per quanto riguarda fanalisi c'è un altro problema ancora maggiore perché mentre la parte che ricade sul territorio è comunale è pubblica la parte che ricade sul territorio di Valermos appartiene a privati e quindi difficilissimo da presentare un unico un progetto comune che sarebbe l'ideale per un progetto di scavi e di portare alla luce quanto c'era su questo tema poi si devono mettere d'accordo anche gli studiosi noi da poco abbiamo ospitato quel gioco su un convegno proprio su fanalisi era presente al convegno la professoressa Mongio Antonietta Mongio la prima cosa che ci ha detto lasciate coperto quanto c'è lì perché sta meglio se non lo vede nessuno e riposa in pace questa è la sua posizione è la sua posizione su tutto quanto di beni archeologici abbiamo ancora sottoterra quindi c'è quasi uno stop alle nuove scoperte a portare in superficie quanto di bello c'è nelle nostre però questo non è la mia posizione io le sto dicendo questa è la posizione che pubblicamente qui ha espresso la stessa notte quindi è chiaro che se comunque una scienziata di questo livello porta questa posizione anche a livello politico magari viene ascoltata e i finanziamenti per questo tipo saranno sempre meno quindi bisogna trovare una una sintesi e vedere qual è veramente la posizione migliore per poter andare avanti allora la soluzione forse che ho già raccontato cioè il modo di vedere che abbiamo noi la realtà digitale non nasce non ha bisogno di scavoli e molte brano ma perché c'era una commedia che oggi io sono stato fatto fuori ho detto cioè non si sente più parlare non posso più raccontarlo però io ho depositato tutto alla CIA e da un notario per cui tutto quello che ho fatto se loro scavano dove ho detto io dove dico io dobbiamo andare il prego di rivedimento eh ok non faccio non faccio allora perché io ho visto Monteprana per non tornare faccio il caso Monteprana Monteprana è stato scavato mille metri quadri mille metri quadri non dico tre volte questa sala questo è Monteprana due due musei diciamo che sono ventimila pezzi provate ok nessuno ci ha capito niente e e quindi hanno buttato cinquant'anni se loro vanno a mille metri quadri e ci vogliono cinquant'anni eh quanti anni ci vogliono per scavare tutto quel ben di Dio che avete o un durare è logica che non fanno niente è logica ma lo scavo digitale quello che faccio io non vedo con posso vedere però io posso farli vedere è è come se lo vedessi cioè io non li posso toccare però li posso vedere in un visore questa è una cosa nuova è attrattivo per i giovani se i giovani vedessero tutti quanti a giocare con questo modo a vedere le cose non sarebbero tentati di ammazzare le fidanzate solo una domanda ma se questo ragionamento fosse stato fatto dall'inizio quante di quelle cose che sappiamo oggi non sapremmo se ci fossero state rischiate infatti il progetto è è stato trovato è stato ripreso perché io ho fatto questo e poi il progetto è prospezione geofisica e scavi selettivi un metro per un metro se io trovo questa roba qui io se io trovo una cosa che dicono il primo la prima ritrovamento l'avevo fatto io ho detto ho messo le pietre sopra il terreno le pietroline per vedere le anomalie che loro non riuscivano a capire cosa fossero le anomalie si dice in tutte le lingue anomalie e non riescono a capire loro capiscono i bambini e allora non l'hanno capito ok allora in queste anomalie loro hanno scavato in una di queste anomalie io per facilitare tutto per giocare su quello che dicevo io ho messo i sassolini per scavare in questo rettangolo e hanno trovato al 54 centimetri e troverete un gigante poi loro hanno scavato e hanno trovato al 55 centimetri cioè hanno sbagliato loro in un centimetro perché l'elettronica non funziona non sbaglia e allora non era un gigante questo sì perché vogliamo rischiare ma era la prima volta al mondo che si faceva così adesso lo fanno tutti nel mondo questo e io le posso dire perché proprio l'altro giorno ero comunque dell'ONU a cui ho fatto presentato un progetto e abbiamo pensato ad un visore che fa il giornale cioè quello che io il nostro costo è ridicolo in confronto a questo ma io l'ho fatto in dodici giorni non cinquant'anni e non mille metri quadri ma 160 mila 160 volte di più posso conoscerlo in maniera nuova e posso fare un'ipotesi loro sono fantastiche oggi questi io ho fatto la tesi di laurea qua cosa calcolatrice a manovella figuriamoci un pochettino se sono abituati a queste cose ma la rivoluzione la vera rivoluzione che oggi c'è è la rivoluzione digitale è una cosa che non esplosa purtroppo ci sono anche i purtroppo che questa rivoluzione porta delle relazioni uno è sempre lì non vediamo noi stessi e come se facciamo a stare senza il telefonino io ieri ho perso il telefonino mi sembrava di essere morto l'ultima cosa riguardo le case capitanesi e vorrei rispondere a lei perché ha detto perché un emigrato non torna e si acquista una casa capitanese qui a Reciubos non lo può fare perché non ne abbiamo più perché purtroppo il nostro centro storico è poverissimo di queste antiche case perché nel periodo del nuovo della nostra agricoltura poi c'è stata una corsa alla demolizione delle vecchie case e alla costruzione delle nuove case questo è stato un disastro per la nostra però purtroppo adesso siamo in questa situazione sono rimasti soltanto due o tre esempi proprio di case capitanesi grazie grazie